La banca centrale europea è un pilastro dell'Unione Europea. Perché? Dagli anni 70 e 80 tutti i paesi avanzati hanno imparato una lezione. La gestione della moneta, in questo caso dell'euro, deve essere separata dal controllo dei politici, il che implica evitare il controllo dei governi nazionali. La ragione è molto semplice. I governi nazionali sono fisiologicamente miopi. Cercano di utilizzare la moneta per risolvere problemi di breve periodo nascondendone i costi. Problemi come la gestione dei deficit, come il salvataggio delle banche, come l'urgenza della disoccupazione. Perciò per avere una moneta sana occorre farla gestire da una banca centrale indipendente e questo è il caso della nostra banca centrale europea. In questi casi e in tutti questi anni la banca centrale europea ha ben lavorato con un obiettivo chiaro, la stabilità monetaria. Credo che sia importante ricordare il suo ruolo e soprattutto sottolineare che la banca centrale europea è stato un pilastro per il passato e il presente, ma dovrà essere un pilastro indispensabile anche per il futuro, perché se vogliamo costruire un'Unione europea ancora più robusta avremo sempre bisogno di una istituzione indipendente che governa la moneta guardando agli obiettivi di medio e lungo periodo.